Ragazzi, ci saranno tre partite. Io contro di Emanuele. È vero Emanuele? Sì, ma vincerò io. No, no, questa volta. Tutti quanti, eh? Hanno visto tutti quanti le partite in cui io skillo telekillo a Samuel, vero? No. Vero? Io piacciono tutte al mio caso, eh? Non so se lo sapete, ma io e Samuel siamo tre più bravi. Emanuele è tutto! Basta, me ne vado. Raga, non è possibile. Non può vincere lui. Raga, ce la dobbiamo fare. Emanuele è ancora son. Emanuele è ancora son. Anche ancora due partite per recuperare. Ragazzi, ce la dobbiamo fare. Allora, se perdete, fate schimmo! Tutti e Emanuele! Tutti! Tra iertati! Con la scritta Emanuele! Tutti! Io e' ancora in mezzo a chi... Aie, 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 aie... Mamma mia, aie, aie, aie... Mamma mia, ma... Come sei da... Hai visto che è andata lì? Aie! Mamma mia non vuole... Non vuole di capareggiare. Sa... Non studiare, studiare le tecniche, eh? Guardate! E se le studia... Come ti ho presa l'ultima, d'addio! No, altre due partite abbiamo spareggiato! E' vero, questa chi la vince vince tutto! Ma l'altra due dobbiamo fare! E' vero, perché... Chi la vince vince tutto l'ultima! Adesso basta Emanuele si è incavolato! Emanuele... Tutti quanti... In chat! Emanuele! Ma non è una live! Non me ne frega! Nel video lo devo scrivere! Ok! Iscrivetevi al canale mio, eh! E' per il mio! Anche se sto a me... Vabbè, siamo già iscritti! Al tuo! Vabbè! Stanno guardando al tuo, caro! Among Us! Isus! Among Us! Among Us! Among Us! Lo so che volete vedere delle live di... Vivi! Dio, Dio, lo so, regà! Che volete... Vorrete vedere dei video di... Come si chiama? Ehm... Di Brostars, è vero, Samu? Sì, sì! Non so fisicamente se ci saranno! Questo è pure di... Sì! Questo è pure... Di... No! Dai! Dai! Forza! Quanto mi hai fatto? 99! 99! E non c'è quinto prima! In tre shot però! E dai! Fran l'arca! Già, dai! L'ultima! L'ultima! Questa che vince, vince tutta! Però, se io vinco, ancora l'ultima sepportica si deve fare, se vince! No, questa se la vinco io ho vinto, eh! Adesso vado nel quale... Anzi, Emanuel005 vi piacesse! Mi ricordate che Tembo mi chiamavo? Emanuel007, però adesso sono 007. Benbo, ti chiamami così! No, Samu, ti perderò! Perderò! Perderò perché tu devi perdere! Non perderò! Non perderò questa volta! Scarlамен! Perchè Samuel fa schifo ad evitare e quindi non mi piace quando gioca Perchè a Samuel ho imparato alcune tecniche buone Cerco di sicure Che vevi trovato Il pergoglio Cappello La legge è riuscita E poi di lasciare le gioci Perchè La legge è la legge Eığım possibilità Molto Che ha scoperto Non 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 si deve fare l'ultimo round è secondo decisivo quindi è l'ultimo round dai peppe l'ultimo round raga noi altri due abbiamo spareggiato di nuovo si è l'ultimo quando spareggiamo un'altra volta è l'ultimo quindi questa chi la vince ha vinto raga questa chi la vince devo vincere io non devi vincere tu devo vincere io tutti i coni siamo io col cecchino sono tipo sniper art più rides più rides più sniper siamo vero fa schifo col cecchino si va c'è schifo guarda poi ti uccido e ti arrabbi uuuu che si fa schifo brutto bestiame guarda che spama bestia guarda è finita ma già no raga la vinta Emanuele ci sarà una rivincita forte l'ultima questa è l'ultimissima di rivincita va bene grazie mamma raga questa chi la vince vince tutto no no se vince di nuovo c'è ancora un'altra chance no questa si se la fareggiamo pepe pazzo dare il pane al pane pazzo no non lo dire non lo dire non ho detto quella parolaccia ok ragazzi tutti quanti in realtà scrivete dare il cane al cane pazzo dare il pane dare pazzo cane al al vabbè quello che dico il pane il contrario solo che lo devi dire al contrario e vi e vedete che vi esce fuori una parolaccia mamma mia quanto è fatto siamo lì siamo in 86 di perdere sempre le sue partite vero? mi ha schivato ho capito che io non faccio ragazzi tutti si chiedono perché da quanti giorni non faccio video vero San? sì l'ultimo l'ultimo abbiamo pareggiato l'ultimo 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 questo è l'ultimo vero dai 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 pazzo 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 ragazzi la parola inchinata è pazzo ragazzi ce lo possiamo fare ce lo possiamo fare ragazzi la parola inchinata è pazzo da dai pazzo bene tutti potrebbero i mani ragazzi tutti si pensano che il mani è morto mi sa perché ma non fa da quanti giorni il video vero San? però non è così sono morto io perché c'ho la mia smirata ma non c'è cavolo ma stai facendo un osso lei che abbessibile se prende no guarda di che non sto spezzando non vado le cure brutto te lo ho detto io non valgono se ne ha perso dare il pane io sono stato bravo però ti è dato l'ultima di vincita l'ultima l'ultima guarda scusate l'ultima però solo perché il cugino però dare il passo al cane pazzo il numero due il numero due ma non si è buggato non c'è neppe non c'è neppe e pensa se vincere la minica basta no niente minica non vale c'è la minica non vale oh non dite non dite mi dice se vincite no 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 è c'è il cecchino mi sento male mi sento male non c'è il cecchino eh ci godo dove stai ma vaffan curla dos curla dos la città dei web però c'è questo caro amico e manuel no vaga la gana non può vincere lui non può vincere lui vaga ha vinto lui si 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 no stanza basta mi sono rinuncita e questa partita che ci stima che ci stima più della mia casa morta in infanzia morta la vince non vado se volete andate sul discord e andate nel gruppo dei cugini cioè nel team dei cugini vero il mio codice se volete mandarmi la amicizia potete perché se volete potete e se potete mandarmela se volete mandarmela pure siamo il cugino se volete mandarmela fate pure e noi ci vediamo al prossimo video e anche alla prossima rivincita e manuel